a i campesi con la stessa organizzazione e stessi principi di gioco e hanno così adattato alcuni giocatori nei ruoli di paolo e dire insomma vale che comunque andiamo a balleggiare nel suo punto di vista di questa piazza poi marino i galloni sulla linea a salvare franco grazie a tutti 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 grazie a tutti